Questa settimana si è aperto un nuovo ennesimo capitolo dei prolungati lavori di Via Fratti, cruciale snodo di collegamento fra il quartiere Pantano e quelli di Muraglia e Monte Granaro, così come dall'interquartieri verso Via Belgioioso, Zona Cimitero e San Decenzio. Tutti i collegamenti interrotti, strade chiuse da Via Trometta, da Via Giolitti, da Via Belgioioso, da strada Madonna di Loreto e naturalmente chiusa Via Fratti, che continua il suo percorso a step di lavori ai sottoservizi concordati fra Comune di Pesaro e Marche Multiservizi. Inevitabili disagi alla circolazione, inevitabili gli imbottigliamenti di traffico e concestionamenti di macchine in vie minori di quartiere, specialmente in giorni di maltempo come oggi. Inevitabili anche i malumori di residenti e soprattutto esercenti della zona isolati e piuttosto tagliati fuori. Lavori che ieri sono stati all'ordine del giorno di un incontro nella sede di quartiere con i residenti quartiere di Muraglia, dove l'assessore all'operatività Enzo Belloni, assieme ai tecnici comunali, ha spiegato i lavori che si stanno svolgendo. E si tratta di uno step di lavori preparatorio ad un altro, perché in questo momento il cantiere è predisposto ai tecnici di Marche Multiservizi che stanno lavorando su allacci fognari e bonifica delle reti di illuminazione, gas e acqua. C'è uno stanziamento di 600 mila euro per lavori che saranno poi propedeutici alla realizzazione della pista ciclabile su Via Fratti, progettata dal Comune. Lavori che erano stati rimandati nel periodo di Pasqua per avere la zona sgombra da cantieri, lavori che però non erano più rimandabili, che ieri sono stati anche frenati e interrotti dal maltempo, che oggi nonostante il meteo incerto sono ripresi, si punta a riaprire le strade alla normalità nel minor breve tempo possibile, ma si tratta comunque di cantieri destinati a prolungarsi nei mesi a venire con una serie di lavori a step.